...l'Apsus friulani iniziano a palesarsi i sostegni all'uno o all'altro candidato per la segreteria nazionale dopo Coppola, deputato del PD Pro Renzi, oggi scende in campo il consigliere regionale Vincenzo Martinez Pro Civati, che commenta le ultime novità a livello politico nel contesto nazionale. Annalisa Anastasi firma servizio da Udine. Sostegna la candidatura di Civati per la segreteria del partito, questo però, qualora lui vincesse effettivamente, cosa comporterebbe a livello di equilibri? Inizia semplicemente un percorso congressuale molto importante perché questo congresso, come sappiamo, nasce da una situazione drammatica per il PD con la dimissione di Bersani, con i fatti che hanno accompagnato la mancata elezione del Presidente della Repubblica. Quindi siamo di fronte a un congresso importante e quasi fondativo per il Partito Democratico dopo quella situazione che si è creata nelle scorse settimane. Sostenere Civati, dato che è stato l'unico parlamentare del PD a non appoggiare l'ETTA, significa non dare la propria fiducia a un governo di questo tipo? Se ci ricordiamo noi abbiamo votato per...